La neurochirurgia dell'azienda ospedale Università di Padova ha eseguito un delicato intervento di neurochirurgia robotica su un uomo di 54 anni affetto da un tumore cerebrale posizionato in sede profonda o cipitale di 3 cm di diametro. I neurochirurghi di Padova sono tra i pionieri di questo tipo di intervento. La neoplasia non era raggiungibile per via chirurgica tradizionale e il braccio robotico ha permesso di raggiungere la zona eseguendo un prelievo con estrema precisione sul tumore profondo e sotto continuo controllo visivo assicurato dal sistema di navigazione accoppiato al robot. Il professore Andrea Landi, neurochirurgo, primo operatore dell'equip chirurgica, ha condotto l'intervento per raggiungere la neoplasia del cervello. Il professor Domenico D'Avella, direttore cattedra di neurochirurgia Università di Padova e la neurochirurgia diretta dal dottor Franco Chioffi hanno utilizzato un sistema tecnologico che consiste nell'integrazione del neuronavigatore con un braccio robotico in grado di allineare e posizionare autonomamente gli strumenti chirurgici. La biopsia è stata effettuata con successo senza complicanze chirurgiche. L'operazione, ben tollerata dal paziente, è durata solo un'ora grazie alla mini-invasività della tecnica applicata. L'attac cerebrale, eseguita come di consueto dopo l'intervento, ha confermato l'estrema precisione della biopsia.